No, sicuramente si può sempre fare di più. In qualche occasione sono stato sfortunato, in qualche occasione potevo fare meglio, però non sto a guardare quello che non ho fatto, ma tutti sperano comunque di fare tanti gol o tanti assist. Ci sono state occasioni in cui forse all'inizio dell'anno la palla non c'entrava come prima, quindi qualche assist in più potevo averlo. Ho preso anche due pali che con un po' di fortuna potevano entrare, quindi sicuramente volevo fare qualche gol o qualche assist in più, però non ho rimpianti e sono contento anche del rapporto dato alla squadra perché anche l'assist a fermo, per esempio, è stato un assist che ha dato tre punti importanti per la squadra. Quindi sono contento, dai. Sì, sì, no, sicuramente la salvezza era l'obiettivo che ci siamo posti a gennaio, però io penso che comunque a volte si guarda la prima parte di stagione male perché comunque ci sono state le ultime quattro partite che abbiamo preso dei risultati che non ci stavano. Però secondo me all'inizio se con la Vispiesa ad esempio facevi tre punti si parlava di un'altra situazione, quindi secondo me ci si focalizza sulla prima parte di stagione perché comunque quelle quattro partite sono state disastrose. Poi sicuramente siamo stati bravi nel girone di ritorno a vincere delle partite che si potevano perdere, che sicuramente all'inizio si perdevano, ad esempio a Viterbo. Quindi no, è stata una stagione e ci siamo rimboccati le mani perché a gennaio l'obiettivo era palese, quale fosse, e siamo stati bravi a raggiungerlo. C'è una squadra forte che deve puntare a vincere il campionato, però noi sicuramente proveremo a mettere in campo sempre le nostre forze senza guardare se la Reggiana deve vincere. Noi dobbiamo giocare come sappiamo e poi prendiamo quello che viene, ma sicuramente ce la metteremo tutta. Ci ricordiamo che all'andata ce ne fecero cinque ma volevano continuare a farci e non si sono mai fermati, quindi quello deve essere sicuramente uno stimolo per noi per cercare di mettergli i bastoni tra le ruote. Non sarà sicuramente facile perché la Reggiana sappiamo tutti che squadra è, però sicuramente non vogliamo fare la figura che abbiamo fatto all'andata che è stata, ci ricordiamo tutti, disastrosa.